Ciao a tutti! Oggi parleremo dei 5 migliori monopattini elettrici su Amazon, ma prima di iniziare ti ricordo che tutti i link dei monopattini elettrici che vedremo si trovano in descrizione o nel primo commento, quindi puoi facilmente trovare i modelli che ti sono piaciuti di più. Ricordati di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Abbiamo anche un canale Telegram dedicato alle offerte, sconti ogni giorno, link in descrizione. Iniziamo! Ninebot KickScooter E22 gamma di 13,7 miglia 12,4 miglia orarie max, velocità pneumatici a doppia densità da 9 pollici. Ninebot KickScooter E22 si impegna a raggiungere nuove vette di prestazioni con BDL. L'aggiornamento si presenta sotto forma di una maggiore dinamica di guida fornita da un'accelerazione più veloce e una maggiore capacità di pendenza del 15%. Ninebot KickScooter E22 si piega in un solo passaggio e può essere facilmente. Inserito nella parte posteriore della tua auto. Questo dispositivo è anche facile da trasportare, con un peso netto di soli 28 libre, che consente di trasportarlo da solo in metropolitana o ascensori, sbloccando possibilità illimitate, sviluppato e messo a punto per tre anni. I pneumatici flat free riempiono la camera d'aria con un nuovo materiale schiumogeno in più. Questo design affronta il punto dolente della possibile perdita di pneumatici con pneumatici, pur mantenendo il comfort di guida e la praticità di poca manutenzione necessaria. I pneumatici da 9 pollici aggiornati offrono maggiore stabilità e comfort rispetto ai precedenti pneumatici da 8 pollici. Quindi non devi preoccuparti di strade. Pneumatici tubele santi scivolo brevettati, freno elettrico e freno meccanico assorbimento degli urti dei pneumatici luci alle d'anteriori integrate 12,4 miglia orarie. Velocità massima gamma di 13,7 miglia a 15% dipendenza integrazione di app mobili. Ducati e scooter Proievo Black, motore 350W, peso 12 kg, freno elettrico e a disco, con frecce direzionali, affronta la città in modo agile e scattante con il monopattino elettrico Ducati Proievo. Non ti dovrai più preoccupare di rimanere fermo nel traffico cittadino grazie al motore da 350W e il Peak Power da 500W, per vivere ogni giorno come se fossi su una pista da moto, sentiti al sicuro su ogni tipo di strada, grazie alla singola leva del freno che aziona i due freni indipendenti elettronico anteriore e a disco posteriore, accerteranno di eseguire una frenata sicura ogni volta. La tecnologia CARS aiuterà a convertire l'energia utilizzata per la frenata in energia per ripartire più facilmente. Le frecce direzionali di cui è dotato il monopattino Ducati Proievo garantiscono sicurezza ad ogni tuo spostamento, la sospensione posteriore e le ruote da 8,5, ti consente di avere una guida stabile e confortevole, anche in caso di lievi urti derivati dalla strada, il Ducati Proievo è il più leggero della famiglia. Il peso di soli 12 kg rende questo monopattino elettrico pratico e facile da trasportare e grazie al sistema di easy folding richiudi e lo trasporti in poche semplici mosse. Xiaomi Mi monopattino elettrico, velocità fino a 25 kmh, peso, 14.2 kg, peso massimo supportato, 100 kg, velocità massima, CEA. 25 km orari, sofisticato sistema di controllo della velocità di crociera e recupero dell'energia cinetica CARS, durata della batteria, fino a 45 km, display integrato per un comodo e veloce monitoraggio con velocità barra batteria barra KM barra modalità, pneumatici antislittamento e ammortizzanti da 8,5 pollici, doppio sistema frenante, nota, l'utilizzo del prodotto in Italia è consentito entro la velocità massima di 20 km orari. Monopattino elettrico Ninebot by Segway, modello F65I per adulti con 65 km di autonomia, motore da 400W, indicatori di direzione integrati, doppio freno e ruote pneumatiche Tubeles da 10, F65I è progettato per rendere i tuoi spostamenti facili e sicuri. Le ruote pneumatiche da 10, con camera d'aria integrata migliorano le performance del monopattino e assorbono perfettamente gli urti, così da poter guidare anche su terreni irregolari. Inoltre, il pacco batteria è stato posizionato nella pedana per assicurare un centro di gravità ribassato che assicura così una guida più stabile, con una potenza erogata di 400W, potrai raggiungere i tuoi amici, la tua famiglia o chiunque tu voglia in man che non si dica. Con una velocità massima di 25 km orari, un'autonomia di 65 km e la capacità di risalire pendenze del 20%, non ti resta che decidere quale sarà la tua prossima destinazione. Il pannello di controllo digitale a LED non mostra solo il livello della batteria, ma anche la velocità e lo stato della connessione Bluetooth. Con un doppio clic sul dashboard intuitivo, puoi cambiare velocemente la modalità di guida. Ecco mode per i viaggi più lunghi. Standard mode per un perfetto equilibrio fra velocità e autonomia. Sport mode per la massima velocità. Walk mode. Lo sapevi che Kick Scooter F65i può essere ripiegato in due semplici mosse utilizzando solo una mano, così da riporlo ovunque tu voglia? Con un peso netto di 22 kg. Puoi portarlo ovunque, riaprirlo e ripartire. È semplicissimo. Xiaomi Electric Scooter 4 Pro. Con indicatori di direzione integrati. 45 km di autonomia. Corpo in alluminio aerospaziale. Porta di ricarica magnetica. Pneumatici tubele s-autosigillanti da 10. Massimo velocità. 20 km orari. Velocità massima per ciascuna modalità. Modalità pedonale. 6 km orari. D. 20 km orari. S. 20 km orari. Visualizza altri dettagli prodotto. Nota importante. L'uso di questo prodotto su strade, marciapiedi, piste ciclabili o in altre aree pubbliche potrebbe essere resoggetto a restrizioni legali locali relative ad esempio alla patente, alla targa, al casco di sicurezza e da restrizioni alla guida. Si prega di verificare prima di acquistare e utilizzare questo prodotto. Per oggi è tutto. E tu quale comprerai faccelo sapere con un commento. Ti ricordo trovi tutti i link ad Amazon sotto al video in descrizione o nel primo commento. Spero che questo video ti sia piaciuto, e se così dovesse essere non esitare a mettere mi piace, alla prossima! Grazie per la visione!